ovviamente siamo a sang full timer pesca manzapesce manzapesce detto così bella questa cosa qua noi di full timer pesca ci calchiamo bene guardate ma che quellina cosina così tonno salmone tanta roba ragazzi eh no però anche l'aspetto è tutto metropolitico si sono molto meglio sono bellissimi grazie a tutti